Emergenza maltempo, qual è lo stato attuale per questa condizione? Sì, la situazione è sotto controllo e monitorata, ieri sera dopo l'avviso della SOUP, della sala operativa regionale, che ci dava una situazione di allerta meteo importante, di livello giallo, abbiamo attivato i nostri volontari, quindi abbiamo chiesto al Cibiclub Mattei, che è la nostra associazione di protezione civile, di allertare i propri volontari che infatti durante la notte hanno monitorato i principali corsi d'acqua, quindi il fiume Metauro, il torrente Arzilla e altri fossi minori, quindi un monitoraggio per capire qual era la situazione. In realtà non ci sono stati problemi, i problemi sono stati soprattutto in alcune strade di campagna, dove sono caduti magari degli alberi sulla strada, ad esempio la strada di Magliano l'abbiamo chiusa temporaneamente, l'abbiamo sistemata e poi riaperta, ieri sera sempre con i volontari e con i vigili urbani e anche con il contributo dei nostri tecnici, ovviamente, questa mattina o sono in corso oppure sono state fatte questa mattina degli interventi su alcune strade, strada Tombolina e altre zone, insomma in giro nelle nostre campagne, sempre per rimuovere gli alberi che magari sono caduti o i rami grossi che sono caduti. Questo ovviamente è stato fatto coordinandoci nella notte, ad esempio con i vigili del fuoco, che hanno rimosso loro l'albero che poteva provocare dei pericoli. Quindi questa è la situazione che è sotto controllo, ci sono stati dei piccoli smottamenti, ma di tipo minore, insomma, le scarpate diciamo ai bordi strada che non ci preoccupano. È arrivata oggi alle 15 la comunicazione che la Regione Marche ha aumentato il livello di, come dire, di allerta meteo da giallo ad arancione, noi ovviamente continuiamo il monitoraggio, anche se pomeriggio non ha piovuto e poi comunque staremo, come dire, allerta, perché effettivamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni e domani stesso potrebbe, come dire, ritornare a questa situazione preoccupante. Ovviamente poi si parla e si vede anche che nei prossimi giorni ci potrebbe essere un problema di neve. Noi invitiamo i cittadini e vogliamo rassicurare che i nostri mezzi sono tutti pronti, le nostre ditte sono già state avvertite, allertate, anche Aset ci darà una mano. Quindi il piano neve, nel caso dovesse essere necessario, è già pronto, è già messo in campo.